Musica Educazione e insegnamento cestistico Sergio, ieri ascoltavo proprio per televisione Francesco Totti con la sua nuova autobiografia, anzi l'unica autobiografia ufficiale il quale rimarcava con forza il decisivo ruolo della strada lui è cresciuto in strada, ha imparato a vivere in strada, ad allenarsi in strada e a dire praticamente che la chiave di volta del suo successo probabilmente è stato proprio quello di vivere in strada dove con poco, con niente, si costruiva una passione non è per caso che la costruzione di un grande campione parte dal presupposto di togliere qualcosa piuttosto che di dare tutto ai giovani ragazzi assolutamente vero nel senso però più ampio io intanto desideri dire che insomma la strada deve essere però una strada con una famiglia dietro nel senso tu quando finisci di giocare in strada devi avere a casa una mamma o un papà che se arrivi a casa tutto lacero contuso invece di andare a chiedere giustizia per i genitori di quelli che ti hanno picchiato ti picchiano a te perché ti sei lasciato picchiare questa è l'educazione vera cioè tu vai in strada e tu devi sapere che la famiglia a questo punto quando tu sei in strada sono affari tuoi cioè non sono più affari miei questo è il grosso problema delle famiglie oggigiorno le famiglie oggigiorno cercano sempre di proteggere i propri figli in modo malsano non esiste educazione se tu ogni tanto non ricevi anche una bastonata in testa questo è poco ma sicuro se tu vai in un gruppo di ragazzini lì vince più forte si creano le gerarchie e tu impari subito che il mondo non è tutto rose e fiori che non sei il cocco di mamma sempre e dappertutto e per cui lì o reagisci e ti imponi per le doti che tu riesci a esprimere e per quali il gruppo ti accetta e allora trovi il tuo posto nel gruppo oppure sei sei emarginato e comunque non avresti avuto nulla da chiedere a uno sport di gruppo quando tu sei un emarginato in un gruppo qualsiasi in strada il problema è che oggigiorno non esistono più questi gruppi cioè Totti ha ancora questa grandissima fortuna di essere nato proprio in uno degli ultimi anni in cui queste cose potevano succedere oggigiorno cioè lui è nato quando i telefonini erano ancora dei cassoni simili con antenne di due metri che venivano portati solamente ai grandi esecchietti in giro oggigiorno tu hai quello che vuoi io sono estremamente pessimista devo dire da questo punto di vista perché andando in giro tu vai di sera per città e trovi questi giovani che sono insieme fanno gruppo sono cinque o sei di loro seduti accanto a un tavolo in una pizzeria e ognuno ha il suo telefonino che parla con un terzo o quarto che in un altro posto fra loro non parlano mai cioè una cosa che secondo me è alienante dal punto di vista mio addirittura straziante da questo punto di vista per cui se tu vuoi fare uno sport di squadra oggigiorno il concetto stesso di gruppo di squadra magari di banda di ragazzini che dopo alla sera fanno magari qualche stupidaggine però assieme però assieme nel senso adesso tu vai lì sta attento perché adesso tu fai il palo io intanto queste cose qua che sono brutte in realtà che però tutti noi facevamo della nostra generazione quando eravamo ragazzini queste cose qua ormai si sono completamente perse io devo dire io ho fatto allenatore qua a Piscina con una generazione di poco dietro la mia cioè tutto gente che adesso ha 60 anni però eravamo ai tempi in cui queste cose erano assolutamente normali non c'era alcuna difficoltà a fare gruppo io ho conosciuto i genitori dei miei giocatori la prima volta alla festa di fine anno non sapevo neanche chi fosse il papà di chi ma lei ha il suo figlio è bravino capisci siamo tutto in un altro mondo a questo punto per cui per mettere su uno sport di squadra secondo me bisognerebbe partire in modo estremamente drastico e draconiano e mettere le basi tutte in un altro modo adesso se vuoi te le spiego ecco perché proprio questo volevo chiederti in un quadro sicuramente svilente genitori ultras allenatori che vogliono per forza vincere le partite con dei ragazzini di otto anni una scuola che osteggia lo sport in questo quadro generale come se ne viene fuori? secondo me con un progetto a lunghissimo termine che però non vedo chi potrebbe mettere in piedi perché oggigiorno siamo nella cultura di tutto e subito concretamente il mio piano sarebbe estremamente semplice cioè intanto deve essere una grande società una grande società perché una piccola non se lo può permettere questo è anche un grossissimo problema perché la piccola società vive di successi spiccioli e non può permettersi in progetto all'ampio termine nel quale comunque ci vuole un investimento di base molto molto cospicuo investimento di base in strutture e in allenatori cioè in istruttori non voglio allenatori giovani non li voglio nel senso allenatori giovani sono quelli che devono fare carriera io voglio allenatori in pensione quelli che hanno già avuto tutto dal basket che si sono avvicinati al basket per passione che hanno sempre ancora passione per il basket e che sanno come si fanno le cose e dietro un buonissimo compenso trovo un istruttore secondo questa secondo questa chiave che sia un istruttore di uomini non di giocatori cioè io devo creare uomini devo creare persone prima di creare giocatori faccio una grandissima leva do ai ragazzini una palla in mano spiego le regole base e lascio che giochino per 20-30 minuti e li osservo e tengo solamente quelli che hanno spirito di squadra cioè quello che pensa di essere più forte di tutti che vuole la palla sempre lui quello lo taglio in partenza io voglio creare io voglio gente che abbia innanzitutto la capacità di collaborare con i propri compagni che abbia il senso della vittoria di squadra che la vittoria di squadra è molto più importante che non il successo del singolo e tutte queste cose diciamo così caratteriali e mentali e su una leva di 200 ragazzini ne avrò probabilmente 20-30 che soddissono queste mie esigenze a questo punto tutti gli altri vanno nelle altre società meglio per me perché distruggeranno le altre società dunque quando giocherò contro di loro vincerò sicuramente anche se sembrano grandi talenti e questi 20-30 comincio a curarmeli dal punto di vista a questo punto dell'etica del lavoro ragazzi dico guardate se voi volete diventare giocatori dovete lavorare così 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 chi vuole lavorare così 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 resta chi non vuole lavorare così 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 vada su 30 me ne resteranno 15 10-15 e lavoro su quelli lavoro su quelli qualcuno di questi avrà anche talento per il basket io quando un ragazzino 8-9 anni non posso sapere come si svilupperà non posso sapere se crescerà se diventerà forte se diventerà abile se diventerà un fenomeno o se rimarrà un metro e venti normalmente tu le partite nelle categorie dei microbi come le chiamo io quello under 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 7 quelle le vinci con i futuri con i futuri nani perché sono quelli che per ragioni ovviamente genetiche sviluppano loro capacità fisiche e psichiche molto prima rispetto agli altri proprio perché possono poi sopravvivere quando gli altri cresceranno per cui questa gente qua dopo rimarrà picolina di loro non avrò assolutamente alcun bisogno c'è uno al massimo che potrà fare il fenomeno il grande giocogliere mi servirà uno su dieci ma gli altri non mi servono nella palla canestra per cui tutto il sistema di selezione dovrebbe essere effettuato ribaltando completamente tutto quanto succede adesso e rendersi conto che per i primi per i primi anni da quando cominci questo lavoro non avrai alcun tipo di vittoria a livello micro però creerà i giocatori e sono convinto comunque sempre questa è l'unica nota di ottimismo che posso darti che in un gruppo del genere sano veramente sano chiunque entri successivamente diventa sano anche lui per cui il compito principale sarebbe di creare un nucleo sano dai valori giusti dotato di etica di lavoro di senso di responsabilità di senso di condivisione questa è la cosa assolutamente più fondamentale poi chiunque entra in questo gruppo se non si adegua viene espulso dal gruppo stesso per cui il gruppo se si espande si espande in modo sano per cui i risultati arrivano dopo 4, 5, 6, 7 anni però garantisco che secondo me se una grande società mi dà queste possibilità di fare un lavoro di questo genere a livello Juniores la partita più dura per me in Italia è sui 40 punti di differenza a mio favore la partita più difficile che posso giocare quindi abbiamo sollevato il problema ma abbiamo trovato anche la soluzione abbiamo parlato di etica del lavoro Mike Agassi papà di Andre Agassi tennista famoso campionissimo diciamo c'è stato un rapporto estremamente conflittuale fra i due da una parte il papà che dice farei esattamente quello che ho fatto essere tiranno ha fatto sì che mio figlio Andre diventi il campione che è diventato il figlio Andre in una sua autobiografia dice non auguro a nessun ragazzino di avere un papà come il mio perché sinceramente questi metodi hanno soffocato un'adolescenza e una crescita tu a un ipotetico figlio augureresti un papà del genere oppure un papà più comprensivo e che lasci vivere l'adolescenza del figlio no no io forse Agassi il papà l'avrei ucciso cioè non avrei resistito cioè oppure sei scappato di casa io anche ho letto l'autobiografia di Agassi forse il bel libro sportivo scritto negli ultimi vent'anni io ho letto quel libro e sono perfettamente d'accordo che era assolutamente intollerabile io voglio creare uomini cioè Agassi ha avuto questa grandissima fortuna di essere una persona estremamente intelligente lui racconta nel suo libro tutte le vicissitudini che ha passato finché non ha incontrato guarda caso Steffi Graff Steffi Graff che aveva lo stesso problema per cui si sono trovate due anime gemelle che potevano condividere la stessa esperienza e grazie a Dio per ambe due quella è stata la salvezza se lui non avesse trovato Steffi Graff e viceversa probabilmente a questo punto sarebbe come Bjorn Borg cioè un relito umano come era vita Sgerulitis questa gente qua cioè grazie a Dio una persona estremamente intelligente ha avuto anche questa fortuna nella vita perché se no il papà l'avrebbe assolutamente rovinato infatti di etica di lavoro io penso tutta un'altra cosa cioè penso anche alla responsabilità cioè il papà il papà e la mamma da questo punto della responsabilità dice tu entro le 2 e 20 devi lavare i piatti se non lavi i piatti entro le 2 e 20 questa sera non ceni questa è l'etica del lavoro ma chi la fa oggigiorno in casa una cosa del genere grazie a tutti Grazie a tutti